Pace bene a tutti. Oggi 21 aprile ricordiamo San Corrado da Parzam. Ascoltiamo la sua storia. Giovanni nasce il 22 dicembre del 1818 in Parzam, una cittadina della Baviera, penultimo di 12 figli di ricchi contadini molto devoti. Era un ragazzo mite, allegro, dolcissimo e amante della natura. Lavorava nei campi con i dipendenti del padre e portava serenità, armonia e gioia. Aveva sempre la corona del rosario legata al polso. Lo recitava mentre dissodava il terreno e appena poteva si raccoglieva in preghiera nelle varie chiese e di frequente si accostava all'Eucarestia. Nel 1841, a 23 anni, professò la regola del terzo ordine francescano. Rifiutò l'amministrazione dell'azienda familiare e divise la sua eredità tra i poveri e alcune istituzioni ecclesiastiche. Nel 1849, a 31 anni, entrò in un convento cappuccino come terziario. Il 4 ottobre del 1852 fece la professione religiosa, consecrandosi al Signore prendendo il nome di Corrado. Da allora fino alla morte, e per 41 anni, ricoprì l'incarico di Portinaio. Fra Corrado svolse il suo compito con zelo, tatto, fedeltà e poche parole. Subito si diffuse la fama del santo Portinaio, che accoglieva i pellegrini dando loro conforto e consigli, ed edificava i confratelli con l'esercizio della carità e della pazienza. Devoto della Vergine e dell'Eucarestia, aveva il dono della profezia. Distribuiva il cibo ai poveri, agli accattoni, ai garzoni operai, ai ragazzi, andando in cucina a scegliere i pezzi migliori, non curante dei richiami a moderare la sua generosità. Tutto ciò che si dà ai poveri, ritorna nuovamente indietro con abbondanza. Era la sua risposta ai confratelli. Morì all'alba del 21 aprile del 1894, a 76 anni. Venne dichiarato beato da Papa Pio XI, il 15 giugno del 1930. E solo dopo quattro anni, il 20 maggio del 1934, lo stesso pontefice lo proclamò santo. San Corrado è stato un frate cappuccino che ha conquistato tutti perché era molto, molto, molto accogliente. Nel suo ruolo umile di portinaio del convento, ossia quello che era lì preposto all'accoglienza delle persone, tutti lo incontravano quando andavano a bussare. E chi trovavano? Trovavano una persona accogliente, trovavano una persona che sapeva ascoltare, trovavano una persona che sapeva aiutare. Sono questi i tre verbi che io consegno a voi oggi per la santità, forse ispirati alla storia di Corrado, Corrado da Parza. Colui che si trovava sulla soglia, diciamo, di un mondo e di una ricchezza, e però la porta è colui che ti fa accedere a quel mondo. Pensiamo quindi a tutte le persone che si rivolgono a noi. Trovano la stessa apertura, la stessa capacità di essere accolti. E io vi ripeto questi tre verbi. Innanzitutto, accogliere. Le persone che vengono da noi non devono trovare una porta chiusa, ma devono sapere che possono essere accudite e protette. Poi c'è l'ascolto. Quindi quando una persona viene da noi, e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare capire che stiamo comprendendo i bisogni che lei sta esprimendo in quel determinato momento. E terzo verbo, l'aiuto. Una volta che abbiamo scoperto le difficoltà di qualcuno, di qualche persona, dobbiamo passare anche alla pratica. Siamo rimasti talvolta ad un concetto, diciamo, di cristianità che rimane nel consiglio. Io ti dico come devi comportarti in modo da guarire. Invece no. Gesù ha spezzato il pane. E anche noi siamo chiamati a fare questo. Quindi sulla scia dell'esperienza di Corrado, umile, portinaio, frate Cappuccino, ma che ha fatto tanto, tanto del bene, ripetiamo questi suoi verbi. Accogliere, ascoltare ed aiutare. E tramite la sua intercessione speriamo di rendere la nostra vita un po' più santa. San Corrado prega per noi. San Corrado prega per noi.